Oh vecchio io registro, non buttare giù, non fare cazzi Dio mio che bella luce che ci sta Avete visto l'ultima inventiva muso? No no in realtà vi tranquillizzo non è rotto O meglio non lo so C'è modi che si è rotto perché mi fa un male boia Si sta un pochettino gonfiando il polso E siccome ancora devo andare all'ospedale a fare due lastre Ci ho messo una polsiera così almeno rimane dritta E posso sbatterlo Vabbè polso, Ciro che fa casino E tutta la distruzione a parte Ben ritornato lì non lo dà Ci ho messo un pochettino tanto a registrarlo Avete pienamente ragione Anche perché tecnicamente oggi lo registro E oggi lo pubblico Quindi muso sei proprio fenomenale Per chi non sapesse che cosa sia il musask In breve sono io che rispondo alle vostre domande Anche perché ho il lungo in breve E la pappa era sempre la stessa Quindi mi raccomando se c'è una curiosità Che vi piacerebbe sapere Una domanda che volete farmi Chivetela nei commenti con l'hashtag musask Anche senza in realtà Poi prendo qualsiasi cosa E se mi ricordo In realtà vorrei ricordarmici prima Così da farvelo uscire più spesso Vi faccio uscire un video del musask Bene Queste sono le domandine che ho preso su Instagram Quindi se non l'avete ancora fatto Venite in descrizione Trovate Instagram Mi trovate lì Con il nome muso.exe Non potete sbagliarvi C'è la foto mia versione Tim Burton E ci sono le mie foto E quindi sono io per forza Credo di avere quasi detto tutto E possiamo iniziare Allora ho selezionato sei domande No forse sette Perché di più non ci riuscivo Erano veramente molto orribili Solitamente questa parte la dico in tutti i musask E la taglio sempre Oggi no Oggi io vado contro il sistema Perché non è possibile Che ci siano domande del ca Che poi uno dice Ah no muso ma domande del ca Sicuramente sono domande carine Ma tu Ma tu le leggi in un'altra chiave Ah si Le leggo in un'altra chiave E allora come lo leggeresti? So che non è una domanda Ero piace a mia mamma Da uno a Taranto Quanto odi i napoletani Vabbè comunque Uno Perché in realtà i napoletani mi piacciono un sacco Non a caso sto guardando mare fuori Faccio schifo Probably Vabbè Comunque Se mi scrivete una domanda decente Qualcosa di Un minimo giusto Perché almeno posso rispondere Risponderò Perché se no dopo io mi immagino veramente una persona Che mi scrive Ciao muso Perché spacci tulipani E poi si lamenta Vabbè Adesso sto sfociando in altri insulti Ok basta Iniziamo con la prima domanda In assoluto Reikami mi chiede Cosa mi rende più felice In assoluto in questo periodo Ma che bella domanda Da Così Bella lineare Cazzo Assurdo Sicuramente una delle cose che mi rende più felice In questo momento Periodo È quello di Vedere persone a me care Tipo questo fine settimana L'ho passato con i miei amici Sulla neve Andando con lo snowboard Non a caso Abbiamo fatto due giorni e mezzo insieme Te lo dico Non ho badato a spese O meglio Non ho mai guardato quanto spendevamo per le cose Ma non perché sono Come si dice Ciro Irresponsabile Eh vabbè Ma proprio perché volevo godermi quel tempo insieme a loro Quindi in realtà Qualsiasi viaggetto nell'ultimo periodo Mi fa stare da Dio Soprattutto fare Soprattutto fare Devo fare cose Capito Devo fare un botto di cose Già la roba di editare un video Pubblicarlo Mi rende felice Andare con lo snow Iniziare ad andare con un deficiente Ricevere gli insulti dalla gente nello snow Vedere i carabinieri sullo snow E finire in un burrone Questo È divertente Lo vedrete in un prossimo video Tranquillo Ecco a te che cos'è la felicità È tipo una domanda di progetto happiness Omar mi chiede Ti piace più streamare o fare video in moto? Omar questa grande domanda è responsabile Io ti rispondo così Allora andare in moto sicuramente è la novità Cioè È quella cosa nuova Ok Streamare ormai lo faccio da 4 anni e mezzo A luglio saranno 5 anni di streaming Oh mio Ma 5 anni Ma se È un botto Quindi sì Andare in moto è la novità Bellissimo È un botto di adrenalina Ti diverti E poi mi piace anche montare Vedere come migliore Tutto il resto Però lo streaming Lo streaming rimane una passione da sempre Il fatto di parlare con voi Rispondere Ciao muso mi saluti Perché sai ti ho visto in un video No Biscottino di me Oggi sono cattivo Mi piace Però ecco Diciamo che sono due cose a parte Sicuramente in questo 2023 Probabilmente lo avete notato O lo state notando Che mi sto concentrando tantissimo su YouTube Sto cercando di farvi avere Almeno dai 2 ai 3 video alla settimana nel principale E 3 video quasi fissi nella cantina Che per chi non lo sapesse La cantina è dove ci sono tutti quegli estratti Che una volta erano qui su YouTube Nel canale principale Ora sono nella cantina del muso Vi lascio il link in descrizione In realtà non è che posso scegliere Mi piacciono entrambi YouTube potrebbe darmi tantissime soddisfazioni E ogni tanto me ne da Twitch è sempre una soddisfazione Ciro riesci a stare fermo con quelle zampettine di me Mario mi chiede Mi sono appena patentato E mo guido la panda di mia nonna Dovrei farci qualche modifica Tamarra? Prima di tutto salutiamo la nonna Che si è vista sparire la panda sotto casa E non sa più dove è andata Eh la signora L'ha presa suo nipote Lo so Quel maranzino di me Altra cosa Modificare una panda Che prendetevi una macchinina Un po' dopo Più carina Più predisposta Ad essere magari Più cattivella O robe così E allora ci potete fare Delle modifiche Consone però A quella macchina lì Ti faccio un esempio La mia Focus C'ha 125 cavalli Gli sono andato a cambiare lo scarico Ma non gli ho messo uno scarico diretto Che fa un bordello della madonna Perché farebbe un pochettino ridere Vedere un panico di casino Con un tre cilindri Mille 125 cavalli No? Quindi io ho fatto solamente un kit estetico Giusto per renderla un po' più cattiva E rimanere a tema Capito? Senza mancare di rispetto alla panda della nonna Onestamente Vedere una panda della nonna Arrivare ribassata Con le minigonne Nera opaca L'allettone nero lucido È uno scarico diretto Che fa un panico Come un V10 Beh Sai vecchio no Ma poi la panda è tanto bella Cioè la panda deve rimanere tale È già modificata È già tamarra di sua Capito? Cioè quando tu vedi un ragazzo Uscire da una panda Sai già che spaccia O vende armi Marco X mi chiede Non fai più Only fans Se non lo sapevate Sì Io ho Only fans Tuttora esiste Credo il mio profilo Con gli stessi nomi Che mi trovate sui social L'ho aperto Esattamente Un anno fa Per il meme E sì Dico proprio meme Perché in live Tempo fa O comunque da sempre Esce fuori la roba Musa ma perché non ti apri Only fans? E io ho sempre detto Certo Lo apro Lo apro Lo apro L'ho aperto davvero E quindi lì C'erano delle foto Beh Ho provato a vedere Come funzionava Ed era Molto strano In realtà Molto strano Perché Prima di tutto Io faccio vedere Tutte le foto Che pubblichavo O i video Che mandavo A mia madre Cioè mia madre Mi faceva Da manager Di holy fans Quindi immaginate Il suo figlio Mezzo nudo Che dice Mamma Com'è questa foto Può andare bene? E mia madre Era tutta presa Con fare Proprio critico Mi diceva Sì luca guarda Secondo me Invece la coperta Dovresti un pochettino Abbassare Brava mamma Mai ragione Ecco quindi Eravamo proprio Un'agenzia Di sfruttamento Dei figli Credo di aver offerto Forse un sushi A mia madre Per questa cosa Boh Ho fermato Holy fans Perché mi pareva strano Mandare video A sconosciuti In cambio di Soldi ovviamente Non lo so Non mi sentivo A mio agio Non mi piaceva Il mio corpo Pareva tutto così strano E quindi Lo riaprirò in futuro Maybe No Non ne ho bisogno Ecco Content creator Con cui ti trovi meglio Bella sta domanda Io però ve la faccio a voi Secondo voi Qual è il content creator Con il quale Sto da dio O meglio Basandovi sui video Che avete visto in passato Nelle live Qual è quello Con cui avete visto Più intesa E che vi è piaciuto Di più in assoluto Il contenuto Quindi avete tempo Per scriverlo Ok Ah quello Bene bene Io dico il mio Rage Unexpected O forse era scontato Non lo so Sono curioso di vedere Voi cosa avete scritto Per vedere effettivamente Con chi vi è piaciuto Video estratti E magari potrei anche Risentirli per farci qualcosina Ho detto rage Perché con lui Mi trovo da dio Sia in live Sia fuori alla live Passiamo un sacco di tempo A parlare Sia in privato Che suddisco Dai cazzi nostri Abbiamo stretto abbastanza E ogni volta che uno dei due Propone qualcosa all'altro Esce sempre qualcosa di bello Divertente Io e lui ci divertiamo Questo è l'importante Se scrivete nei commenti Un content creator Del ca Con il quale ho fatto qualcosa Te lo dico Rispondo a quel commento Con una faccina sorridente Farai mai un Reagisco alle vostre moto Slash veicoli Ma lo sai che questa idea È una gran figata Potrei farla Quindi dai motorini 125 8, 250, 300 4 Fino a 1000 Dalle macchine Dal pandino della nonna di prima Al mustang v8 5000 di ciccio Possiamo fare queste robe qui Non lo so Dovremmo trovare modo Di organizzare questa reaction Secondo me potrebbe uscire bene Cos'è Shiro? Se io parlo rumeno Te ti fermi? Ah Ho addestrato Il mio piccolo rischio Da combattimento Mi sa che qua siamo all'ultimo Le tue sorelle Guardano mai le tue live video? Se sì Cosa ne pensano? Onestamente Non lo so O meglio Credo che vedano qualcosa Sparso di là e di qua Più che altro Non sono le mie sorelle a seguirmi Sono le amiche delle mie sorelle Cune cose Ebbene che rimangono Dei misteri No non è vero Non credo comunque Mi seguono Forse No comunque credo che su youtube Ogni tanto guardano qualcosina Sono quasi sicuro Tu? Perché non ho acceso questa luce prima? Comunque credo che le domande Per oggi siano completamente finite In realtà senza credo Perché ne ho selezionate 7 Ne ho risposte a 7 Quindi muso Eh Vi ricordo mi raccomando Di lasciare un commentino Con l'hashtag Musask È una domandina carina da fare Una curiosità Qualsiasi cosa vogliate Detto ciò Io vado a tagliare le gambe Di quel riccio Perché sta correndo Come un assassino Noi però ci becchiamo Ogni giorno In live alle 18 Su quel sito Viola Bellissimo Ovviamente trovate in descrizione Come tutti gli altri link Io vi auguro un buon proseguimento Di giornata Non drogatevi Andate con lo snow Spaccatevi un braccio Drogatevi di adrenalina Bella Dovrebbe essere scritta Nella mia lapide Fuck you